Con noi il team manager dell'Ionica Enzo Filoromo, da poco si è conclusa la trattativa che porta Maggioloti all'Ionica. Sì, era il nostro obiettivo estivo, Francesco, un ragazzo che non ha bisogno di presentazione, uno dal curriculum importante, in ultima la sua esperienza a Taormina in eccellenza che si è conclusa qualche settimana fa dove ha fatto benissimo, è stato utilizzato poco, chiaramente non entra in merito a quelle che sono le scelte. Per noi è un arrivo importante che alza tantissimo il livello tecnico di questa squadra, alza tantissimo il livello di personalità, di conoscenze calcistiche, sicuramente è un elemento che ci darà una grossa mano d'aiuto in questa seconda parte del campionato che per noi è importante perché puntiamo a fare un campionato importante. L'Ionica è finalmente riuscita anche ad acquistare un ragazzo di Santa Teresa di Riva perché allora l'FC era nata con il proposito di far giocare nell'Ionica tanti ragazzi della nostra Riva Ionica e finalmente Enzo dopo tanti sacrifici siete riusciti a portare un giocatore di non levole spessore tecnico. Gianni hai sintetizzato tu benissimo, per noi Francesco in questo momento è il ragazzo in attività che ha calcato per conoscenze importanti, è molto giovane considerando che è un classe 94, ha avuto esperienze importanti, è chiaro portarlo a Santa Teresa non era facile perché è un ragazzo di prospettiva, un ragazzo che aveva richieste anche di categoria superiore, parliamo di eccellenza, parliamo anche di qualche contatto in serie D, quindi averlo qui da noi ed essendo un ragazzo della Riva Ionica per noi vuol dire tanto perché vuol dire che il nostro progetto che è partito qualche anno fa si sta materializzando sempre di più, sta prendendo sempre più forma e quindi noi vogliamo attraverso questo arrivo di Francesco non vederlo come un punto d'arrivo ma bensì come un punto di partenza su cui costruire una squadra ancora più competitiva, ancora più forte e cercare di valorizzare sempre al meglio i ragazzi della Rivera. Non a caso abbiamo preso anche Sparacino, classe 97 che è di Furcisicolo, anche lui ha avuto un trascorso molto importante, nonostante la giovanissima età, ha già avuto esperienze in promozione con lo Sporting da Ormina, viene da città di Messina, precedentemente giocava anche nelle giovanili del Messina, quindi questo è un'altra esperienza del fatto che noi vogliamo valorizzare al massimo i ragazzi della Riva Ionica e vogliamo cercare di creare una squadra che sia riferimento per la Riva Ionica, non mi stancherò mai di dirlo perché è giusto che ci siano altre squadre locali ma è anche secondo me altrettanto importante, ci sia una squadra leader nella Riva Ionica che possa essere da riferimento per tutti e possa collaborare con tutti affinché questo progetto possa crescere sempre di più. Finalmente si riuscite ad ottenere l'omologazione del campo di calcio per 150 persone, quindi finalmente voi domenica disputate una partita a porta aperta e guarda caso coincide con il debutto molto probabilmente di Maggiolotti. Quali sono le prospettive dell'Ionica, quindi con l'acquisto di Maggiolotti, c'è sicuramente puntata in alto, almeno ad arrivare nei play-off? Intanto nella situazione di campo devo ringraziare pubblicamente l'amministrazione con l'assessore Gianni Bonfiglio insieme a Degnolo Giudici sono stati per me delle persone che si sono adoperate per il raggiungimento di questo obiettivo minimo che era quello di dare la possibilità ai cittadini della Riva Ionica e non solo di Santa Teresa di assistere a una partita di promozione visto che nella Riviera non ci sono partite di promozione, per vedere una partita d'eccellenza deve andare a Taormina, quindi un traguardo importante, il minimo, indispensabile per poter quantomeno assistere a una partita di calcio. Coincidenza vuole che domenica giochiamo contro il Sant'Agata, è una squadra che tu avrai modo di vedere e tutti quanti coloro che verranno ad entrare al Comunale è una squadra di categoria superiore e lo testimoni del campionato straordinario che stanno facendo. Noi cercheremo di fare la nostra partita, è chiaro che onestamente il divario tecnico fra noi e loro è importante uno deve non fare, dal mio punto di vista, voli pindarici, uno deve fare le valutazioni corrette deve sempre rendersi conto di quello che ha in mano, di dove vuole arrivare. Noi con Francesco, dicevamo prima, per noi Francesco Pacevoli non deve essere un punto d'arrivo ma un punto di partenza quindi il nostro obiettivo minimo è quello di centrare la salvezza prima possibile dopodiché punteremo dritti eventualmente qualora dovessimo raggiungere il più breve tempo possibile perché capito l'innovazione tu avrai sicuramente visto che tutte le squadre sono rinforzate non a caso una di tutte in città di Messina che ha preso anche a Ricò, ha preso anche altri elementi importanti quindi la zona playoff è una zona molto ma molto ambita in questo momento ci sono anche almeno 6-7 squadre che lottano lì in 3-4 punti per poter centrare dentro questo obiettivo quindi noi cercheremo di fare il massimo delle nostre possibilità chiaramente non prendendo di vista però quello che è la crescita del nostro progetto che passa attraverso la valorizzazione dei giovani e quindi un percorso di media lunga percorrenza. Un'ultima cosa, la situazione in Fortuni in casa Ionica? In Fortuni vedete il recupero di Max Rasimenko che probabilmente non sarà disponibile ancora per mercoledì abbiamo avuto un problema ultimo con la Rio di Sparacino che ha avuto anche un problemino fisico di Rovito che ha avuto un problemino anche lui che non è al meglio però il mister sta lavorando benissimo col gruppo e abbiamo fatto un ottimo... Sono recuperabili per la partita con il Sant'Agata oppure no? Io mi auguro di sì per il Sant'Agata col Sinagra probabilmente no però con il Sant'Agata speriamo di averli disponibili abbiamo fatto un buon test col Catarabiano squadra che prima in classifica nel giorno di prima teoria i ragazzi stanno allenando bene si sono allenati bene in questa vacanza ad Alizia che è una cosa fondamentale per poter gettare le basi per un giorno di ritorno importante quindi i presupposti ci sono ora dobbiamo dare come sempre è il campo a stabilire se abbiamo lavorato bene o meno io sono sicuramente positivo in tal senso grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.